Potrebbe essere un regolamento di conti il motivo dell'aggressione con rapina e accoltellamento di ieri sera in pienissimo centro a Pescara, a Piazza Sacro Cuore, che ha scorso la città e i residenti e portato nel giro di poche ore all'arresto dell'aggressore e alla denuncia della presunta complice convivente indagata in stato di libertà. È successo tutto poco prima delle sette nell'ora dello spritz quando, su segnalazione della sala operativa, gli uomini della pulizia sono subiti intervenuti per la presenza di una persona ferita e sanguinante un 58enne di Pescara che risulterà avere precedenti penali aggredito davanti casa da un uomo in compagnia di una donna e di una terza persona poi individuata. Sarebbero state proprio le testimonianze dei residenti insieme con le immagini delle telecamere di sorveglianza far risalire gli inquirenti al 51enne pluripregiudicato sul quale grava anche una condanna per omicidio. L'aggredito che ora è in ospedale con una prognosi di due mesi per ferita con un taglierino al collo mandibola e orecchio sinistro ha riferito di essere stato aggredito da due sconosciuti che lo hanno sorpreso alle spalle mentre rientrava in casa intimando di consegnargli il Rolex che aveva al polso anche se le versioni risultano discordanti con gli inquirenti che ipotizzano anche possibili momenti diversi oltre alla semplice rapina una sorta di regolamento di conti per vecchie ruggini. Il 51enne subito tratto in arresto è accusato di tentativo di rapina e lesioni pluri e aggravate e ha poi collaborato permettendo il ritrovamento dei suoi vestiti ancora imbrattati di sangue lasciati a Montesilvano nella zona del bingo dopo che a tradirlo erano state le scarpe anch'esse ancora imbrattate di sangue.